Un re più cibo per il banchetto nel salone Non dobbiamo fallire, signore Questa Contea non ha mai visto un simile sfarzo Scegli i beni, Sire Dobbiamo allestire un campo per il torneo, Sire Deve essere tutto pronto per l'arrivo del re Ci vorrà del tempo per ultimare i preparativi Occhi aperti, ragazzi Sire 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo mese il cibo non è stato distribuito. Le nostre scorte di cibo stanno aumentando, Sire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.